Lei aprì la porta. Davanti a lei stava una donna sconosciuta che chiaramente abusava dell'alcol. Sotto gli occhi erano visibili delle occhiaie scure e appariva molto trasandata. Inoltre, la donna emetteva un forte odore di alito alcolico. «A chi sta cercando?» chiese Tatiana, avvertendo una sensazione sgradevole. «Qui vive Tatiana Rossi. Sì, sono io. Come posso aiutarla? Lei mi ha già aiutata. Ha salvato mio figlio. E ora sono venuta a prenderlo». Tatiana sentì il terreno scomparire sotto i suoi piedi. Era ciò che temeva di più. Era così spaventata. Pensava di non cederlo a nessuno, anche se dovesse uccidere quella donna. Era primavera. Le giornate erano molto calde. Si sentiva persino l'avvicinarsi dell'estate. Sul marciapiede camminavano lentamente due amiche, discutendo animatamente. «Tatiana, dove deciderai di iscriverti alla fine? A psicologia o a giurisprudenza? Non ho ancora capito. Ho deciso per giurisprudenza. E tu? Io verrò con te. Non voglio andare in medicina. Mia madre mi ha già stancata. Non so perché desideri tanto che io sia un medico. Non sopporto l'odore degli ospedali e odio le persone in camice bianco. E perché provi tanto odio verso di loro? Beh, mio padre è stato gravemente malato. Lo sai, è morto due anni fa. Quindi, i medici non hanno potuto fare nulla, anche se avrebbero dovuto. Credo che sia colpa loro se mio padre non è più qui. Elena, per favore, non essere triste. So che è ancora difficile per te, ma parliamo d'altro ora. Non voglio vederti triste. Va bene. A proposito, andrai al compleanno di Natalia? Credo che ti abbia anche dato un invito. Sì, ma non andrò, non la sopporto. Non ci siamo mai sopportate sin dalla prima elementare. Inizialmente non avevo capito che fosse lei. Poi l'ho sentita dire a un'amica che non voleva regali, solo soldi. Vuole comprarsi un nuovo telefono. Quindi invita tutti indiscriminatamente. Quindi non ci andrò. Allora nemmeno io andrò, anche se inizialmente volevo. Forse cambierai idea? Cosa intendi con cambierai idea? Elena, capisci, non ho soldi extra. E sai, non sembra giusto. Dai un po' di soldi. Tutti diranno che sono o povera o avara. E non ho una grossa somma. Ma anche se l'avessi, avrei comunque bisogno di quei soldi. Ora siamo in difficoltà economiche. Mia madre lavora sempre. Ma guadagna poco e facciamo fatica ad arrivare a fine mese. Vedi, eppure volevi andare al compleanno. Vedi, andrà tutta la classe. E il giorno dopo scopriremo chi le ha fatto il regalo migliore. E lei sicuramente lo menzionerà. Così, probabilmente, farà Timur. Sai che ha un figlio di papà. Meglio se le avesse regalato subito un telefono. Per lui non significa nulla. Probabilmente è proprio quello che lei si aspetta. Ma mi sembra che anche lui non verrà. Non ha una grande simpatia per Natalia. E a lei sembra sempre che tutti gli uomini del nostro pianeta debbano adorarla. Sì, ha davvero un'alta opinione di sé, ma va bene. Lascia che pensi come vuole. Solo che recentemente Timur mi ha chiesto di uscire insieme. Davvero? Questa è una novità. E perché non me l'hai detto? Non so, forse non l'ho preso sul serio. Inoltre, stiamo per finire la scuola. Tra una settimana ci sono gli esami e la festa di diploma. Dove trovare il tempo per uscire? No, Tatiana, non hai ragione. E poi, non vorresti tu avere un ragazzo così al tuo fianco? Io probabilmente morirei dalla felicità. Va bene. Ci penserò. A proposito, gli ho detto la stessa cosa. Adesso vado a casa, ma dopo pranzo ti aspetto. Ci prepareremo per gli esami. Non c'era nessuno in casa. Il padre era in viaggio di lavoro e la madre di Tatiana tornava dal lavoro molto tardi. Stava facendo un rapporto e diceva che aveva ancora molto lavoro. Tatiana si è cambiata e si è diretta in cucina. Ha messo a scaldare la zuppa e ha infilato una cotoletta nel microonde. Mentre stava bevendo il tè, è suonato il telefono. Tatiana, ciao, cosa stai facendo? Ciao, sto pranzando. Perché mi chiami? Chiese lei, sentendo il cuore battere forte. Era Timur. A Tatiana piaceva molto Timur, e non solo a lei. Tutte le ragazze impazzivano per lui. Era un giovane molto bello e anche molto intelligente. Era un ottimo studente e sempre modesto. Volevo sapere, cosa fai stasera? Deve venire Elena. Vogliamo prepararci per gli esami, ma poi probabilmente sarò libera la sera. Ecco. Ottimo. Prendi la tua amica e andiamo al cinema. È uscito un film divertente, Venom. Forse ne hai sentito parlare? Certo. Lo stanno pubblicizzando da un mese. Bene. Chiamerò Elena per avvisarla che stasera andiamo al cinema. Così si vestirà di conseguenza. Ok. Allora dopo, ci vediamo stasera. Tatiana sentì arrossire le guance. Se in classe avessero saputo che stava ancora riflettendo sulla sua proposta di amicizia, l'avrebbero presa per pazza. Immaginava il volto di Natalia quando avrebbe scoperto che Timur le aveva chiesto di uscire non alla prima bellezza del pianeta, ma a una ragazza qualunque di nome Tatiana. Compose il numero di Elena e attese che rispondesse. Tatiana, mi chiami per evitare che mi dopo pranzo? No, Elena. Volevo solo dirti che Timur ha chiamato e ci ha invitato al cinema. Quindi vestiti adeguatamente. Altrimenti so che verrai da me con quei pantaloni sportivi che nessuno indossa più e una maglietta strappata. Ma noi viviamo vicino. Vengo da te come sono vestita in casa. Va bene. Capito. Ma vestiti decentemente. E sai se verrà da solo o con un amico? Nella voce dell'amica si percepirono note allegre. Non ne ho idea. A dire il vero non mi importa. Voglio solo andare al cinema. Ok. A dopo. Devo ancora lavare i piatti e pulire la casa prima che tu arrivi. Tatiana stava caricando la lavatrice quando Elena arrivò. Come sto? Tatiana guardò l'amica e scoppiò a ridere. Le ricordava una zia degli anni 80. Manca solo una borsa della spesa nelle sue mani. Non capisco cosa ci sia di divertente. Ti sei vista allo specchio? Pensi davvero di andare al cinema così? Non farmi fare brutte figure. Ti prego. Ma ho preso una gonna e una maglietta di mia madre. Onestamente non ho niente da mettermi. Da quando mio padre è morto non abbiamo abbastanza soldi. Abbiamo appena abbastanza per il cibo. Quindi mia madre non mi compra vestiti da tempo. Non posso andare al cinema con le mie gonne scolastiche e le camice bianche. Capisco. Per i vestiti posso aiutarti. Mio padre mi porta continuamente jeans e vestiti dall'estero. Quindi troveremo qualcosa per te. A proposito, posso regalarti un paio di pantaloni. Andiamo nella mia stanza. Quando Tatiana aprì l'armadio, Elena esclamò. Wow, è davvero ora di svuotarlo. Hai così tanti vestiti che sono scioccata. Non hai visto l'armadio di mia madre? Lì c'è veramente un intero negozio di abiti. E il mio è ancora molto modesto. Allora, togli tutto quello che hai addosso. Ti metterò questi jeans e una camicia. E, a proposito, prima di provare tutto questo, per favore, vai in bagno a lavarti. La tua trucco sembra degli anni 50. Ho visto rossetti arancioni solo nei vecchi film. Va bene? Ora mi lavo. E non ci truccheremo? Non ci truccheremo. Applicheremo solo un po' di mascara. Pettineremo bene i capelli. Mia madre dice che in giovinezza la bellezza dovrebbe essere naturale. Si truccano le donne che hanno le rughe e che traggono vantaggio da nasconderle sotto uno strato di cosmetici. Capisco. Semplicemente nessuno mi ha insegnato. E faccio tutto come fa mia madre. La vedo truccarsi. Così ho deciso di provare anch'io. Elena andò in bagno, mentre Tatiana la guardava andare via con tristezza. Ricordava quando il padre di Elena era vivo. Vivevano molto bene. E come dopo la sua morte tutto era decaduto. Sospirò e prese degli abiti. Ecco. Ho lavato via tutto dal viso. Puoi guardare? Per favore? Sì. Tutto perfetto. Ora riconosco di nuovo la mia amica. Perché all'inizio mi avevi quasi spaventato con quei colori vivaci che avevi sul viso. Basta prendersi gioco di me, va bene? Proviamo qualcosa. Non indosso cose così belle da tempo. Quando finirono di provare gli abiti e Elena sembrava presentabile, Tatiana prese una grande borsa e vi mise dentro un completo, delle bluse e dei pantaloni. Prendi queste cose a casa. E per favore, se hai problemi, dimmelo. Ti aiuterò sempre. E non ci saranno problemi con i tuoi genitori per il fatto che ti do questi vestiti costosi. O non dirai loro nulla. Dirò sicuramente a mia madre. Non ho segreti con lei. Non preoccuparti. E mi conosci, non mi piace mentire. Quindi non nasconderò nulla a nessuno. Bene. Andiamo. Abbiamo impiegato così tanto tempo e tra due ore dobbiamo già uscire. Ripassiamo almeno un po' di matematica. Arrivarono al cinema e videro Timur, che non era solo, ma con un ragazzo. Oh, ragazze, ciao. Conoscete? Questo è il mio amico Sergio. Siamo amici d'infanzia, solo che lui studia in un'altra scuola. Sergio, queste sono Tatiana ed Elena, le mie compagne di classe. Tatiana notò che Elena era molto colpita da Sergio e fu felice per l'amica. Sperava che diventassero amici. Tuttavia, la sua gioia fu di breve durata. Quando entrarono in un caffè prima del film, scoprirono che Sergio aveva una ragazza, che non era riuscita a venire con loro quel giorno. Io e Svetlana siamo insieme dalla prima elementare. Dopo la scuola andremo all'università e l'anno prossimo ci sposeremo. Abbiamo già deciso tutto. Questo è fantastico. Ma non pensi che sia troppo presto? Non vuoi divertirti un po' di più? Chiese Timur. No, non ne ho voglia. Si vede che non sei innamorato. Se lo fossi, capiresti di cosa sto parlando. Ma perché? So cosa è l'amore, ma non ho intenzione di sposarmi per ora. E tu, Tatiana, ti sposeresti così giovane? No, non ci sto nemmeno pensando. Uscire insieme è una cosa, vivere insieme è un'altra, a cui non sono ancora pronta. Credimi, quando ti innamorerai davvero, vorrai vivere insieme, essere sempre con quella persona. So di cosa parlo. Tatiana non è piaciuto il film. Si aspettava qualcosa di completamente diverso. La pubblicità del film era stata eccellente. E il primo trailer sembrava interessante. Ma il film risultò noioso e poco interessante. Mi aspettavo di più, ma come al solito, solo una delusione. Non ci cascherò più, non guarderò la pubblicità, ma controllerò direttamente le recensioni. Non credere nemmeno alle recensioni, prima di andare al cinema le avevo lette, erano tutte positive. Semplicemente, sembra che abbia deluso tutti, ma volevano che tutti lo vedessero. Quindi scrivono che è magnifico. Chiaro, inganni dappertutto. Anche se con Avatar non è stato così, sia la pubblicità che il film stesso erano all'altezza. E a voi ragazze, il film è piaciuto? Non molto. Semplicemente mi piace l'attore Tom Hardy, ma qui in qualche modo ha deluso. A tratti era persino spiacevole guardarlo. Sergio se n'è andato, e Timur ha accompagnato le ragazze a casa. Vicino alla casa di Tatiana, quando stava per andarsene, Timur le ricordò della sua proposta. Allora, Tatiana, ci hai pensato? Dai, usciamo insieme. Certo, non sono Sergio, non sono ancora così innamorato come lui, ma mi piaci da tempo, solo che non ho mai avuto il coraggio di avvicinarmi a te. Ci ho pensato, proviamoci, solo non credo che andrà così lontano come con il tuo amico. Probabilmente, la sua ragazza è di una bellezza celestiale, perché il tuo amico sembra essere in paradiso. Lei è del tutto normale. Ti mostro ora una sua foto. Tirò fuori il telefono, e un minuto dopo Tatiana guardava una foto in cui c'erano Timur. Sergio è una ragazza che secondo gli standard di Tatiana era lontana dall'essere una bellezza. Inoltre indossava degli occhiali che la rendevano piuttosto sgradevole. Ecco, pensavo fosse una bellezza. Ora capisco come la vede Sergio. Per lui significa davvero molto, ma mai avrei pensato una cosa del genere. Sai, Svetlana è davvero una persona fantastica. È un vero amico. Ed è molto intelligente. Suo padre vuole addirittura mandarla a studiare all'estero. Ma lei non vuole andarci a causa di Sergio. Avevamo pianificato di andarci in tre. Ma Sergio non è possibile. Suo padre ha problemi finanziari. Quindi sembra che studieremo qui. Capisco. E mi hai chiesto di uscire insieme quando hai capito che non andrai a studiare all'estero, o per un'altra ragione. Non mentirò. Sì, ha giocato un ruolo. Inizialmente non vedeva il senso. Pensavo che appena avremmo iniziato a frequentarci, avrei dovuto partire. E non credo molto nell'amore a distanza. Anch'io, soprattutto, ci sarà sicuramente la sfiducia, che è la cosa peggiore. Tatiana, sono felice che tu abbia accettato la mia proposta. Ti avrei invitato al caffè, ma vedo che hai fretta di tornare a casa. Immagino che non ti sia permesso rientrare tardi. Sì, sono molto rigida su questo. Quindi devo andare. Altrimenti mia madre si preoccuperebbe. E tuo padre? Non si preoccupa per te? Si preoccupa. E anche più di mia madre. Solo che ora è in viaggio d'affari. Quindi non è qui. Capito? Allora a domani. Buonanotte. Piccola, ci vediamo a scuola. Timur si chinò e sfiorò leggermente le labbra di Tatiana. Dopo quel bacio, a Tatiana sembrò di aver perso il terreno sotto i piedi. Era così piacevole che rimase sconcertata. Non ricordava come fosse salita al quarto piano. Solo una volta a casa si riprese un po'. Entrò in stanza e vide che sua madre si era addormentata sul divano. La coprì con una coperta e anche lei andò a letto. Allora, com'è finita ieri? Chiese Elena la mattina mentre andavano a scuola. Abbiamo parlato un po', poi sono andata a casa. Sai, a casa mia sono molto severi. Devo essere a casa per le dieci. Capisco, a mia madre invece non importa. Ultimamente sembra uno zombie, non fa caso a me. Dopo la fine della scuola, le ragazze si iscrissero all'università. Elena era ancora indecisa perché non capiva se volesse essere un avvocato o no. Ma il desiderio di stare accanto a Tatiana prevalse e si iscrissero insieme. Guarda, Elena, non vorrei che dopo cinque anni di studi capisci che questa non è la tua strada. Ho scelto questa professione perché voglio essere un avvocato, ma ho dei dubbi su di te. Non preoccuparti, andrà tutto bene. Dimmi piuttosto, come vanno le cose con timore. Vi vedete? Sì, ultimamente meno spesso perché ci stavamo preparando per la missione. Ma ci sentiamo al telefono, però mi manda sms ogni cinque minuti. Ho persino tolto il suono dal telefono perché il continuo trillo dei messaggi mi stava davvero infastidendo. Beata te, che ragazzo fortunato hai trovato. E tu? Lo ami. Sai, Elena, ho persino paura che i miei sentimenti siano più forti dei suoi. E me lo ricordo continuamente. A proposito, Sergio si sposa presto. Sembra che non aspetteranno un anno come avevano pianificato inizialmente. Svetlana è davvero una brava persona e è molto piacevole parlarci. Spero non sia la tua migliore amica, perché comincio a essere gelosa. Smettila. Sai che non capisco come si possa essere gelosi di un'altra ragazza. Ti farò conoscere lei. Anche se a dire il vero lei sa già di te perché le parlo continuamente di noi. L'università iniziò e Tatiana vedeva Timur meno spesso. Ma vedeva che l'interesse per lei non era scomparso e lui continuava a inviarle sms. Domenica decisero di incontrarsi e fare una passeggiata nel parco. Tatiana, ti prego solo di non portare la tua amica. Voglio stare un po' solo con te, senza che nessuno ci disturbi. Ho una controproposta per te. Troviamole un ragazzo. Hai amici che non hanno una ragazza? Ci penserò. Cosa si può fare? Ma questa domenica voglio che tu sia sola. Passarono un tempo meraviglioso insieme e Tatiana si rese conto con orrore di innamorarsi sempre più di Timur. Vedeva che lui la trattava con calma e che non c'era un grande amore da parte sua. Semplicemente le piaceva. Lui ne parlava onestamente, ma non aveva mai sentito dire da lui ti amo. Sai, Elena, mi fa paura. Un giorno lui mi dirà che si è innamorato e il mio cuore si spezzerà in mille pezzi. Ne ho davvero paura. Ma da dove lo deduce? Si vede che è pazzo di te. Non noti come ti guarda? Sembra che sia pronto a divorarti? È sempre gentile con te. Cerca sempre di farti piacere. E tu, come una bambina, hai sempre paura di tutto. A proposito, ho chiesto a Timur di trovarti un ragazzo. Forse uno dei suoi amici potrebbe essere adatto per te? La sera, Svetlana venne da Tatiana e le portò un invito. Ascolta, Tatiana, voglio che tu sia la dammigella d'onore al mio matrimonio. So che tu e Timur stati insieme e siccome lui sarà il testimone dello sposo, sarebbe logico se tu fossi la dammigella. Dopotutto, non ho altre amiche, quindi sei perfetta tu. Svetlana, mi piace la tua franchezza. A volte mi sciocca, ma sto iniziando ad abituarmi. Probabilmente per questo non hai amiche, vero? Sembra che solo con te ho trovato un'intesa. Quindi, se ho capito bene, accetti? Sì, sarò felice di essere la tua dammigella d'onore. Il matrimonio fu allegro. Tuttavia, verso sera Tatiana sentì stanchezza e dolore ai piedi, perché le sue nuove scarpe le avevano causato visciche. Vieni a ballare. Ancora un po' e ti porterò a casa, la invitò Timur. Tatiana sorrise, ma mentre lo seguiva verso la pista da ballo, gemeva dal dolore. Lui notò il suo sguardo pieno di dolore e chiese. Tatiana, cosa c'è? Sei pallida. Stai male? Tutto bene. Solo i piedi mi fanno male e le nuove scarpe mi hanno fatto delle visciche. Dio mio, ma che sei? Eh? Perché non me lo hai detto subito? Prese una sedia e la fece sedere. Riposa un attimo. Torno subito. Dopo cinque minuti tornò e la prese in braccio. Ho spiegato agli sposi che stavi male e ho detto che ti avrei portato a casa. A quanto pare, anche Svetlana ha lo stesso problema. Si regge a stento in piedi. Quindi è il momento giusto. Quando arrivarono a casa, Timur si voltò verso Tatiana e disse, vuoi che ti porti in braccio fino all'entrata? No, non serve. Posso camminare da sola. Buonanotte, ci sentiamo domani. Lei aprì la portiera per scendere, ma Timur la fermò. Ascolta, Tatiana, oggi è il matrimonio dei nostri amici. Ho finalmente capito cosa intendeva Sergio. Anche io voglio farti una proposta. Dopo la laurea, sposiamoci. Ti amo molto e non voglio perderti. Tatiana lo guardava in silenzio, incredula di sentire quelle parole da Timur. Allora, perché non dici niente? Non vuoi sposarmi? Accetto, rispose semplicemente Tatiana. Uff, meno male, mi ero spaventato. Pensavo che avresti rifiutato. Vieni, ti accompagno fino a casa, sei pallida dalla stanchezza. Non voglio che tu ti senta male. Scendi, ti aiuterò. Tatiana non riuscì a dormire per un po'. Le parole di Timur le ronzavano nella testa e il suo cuore batteva forte. Si alzò e andò in cucina per bere della Valeriana. Capiva che doveva calmarsi. Nell'ultimo anno di studio, Timur disse a Tatiana che suo padre aveva urgentemente bisogno di un avvocato nella sua azienda e che sarebbe stato felice di assumere la sua futura nuora. Quindi per il lavoro sei a posto. E a proposito, sposiamoci subito. So anche cosa vogliono regalarci i nostri genitori per il matrimonio. Non lo sapevo. E cosa? Ci regalano un appartamento. Sono davvero felice che i miei genitori vadano d'accordo con i tuoi e le nostre madri sono diventate amiche. Lo so, tua madre parla al telefono con la mia per ore. E mio padre va sempre a giocare a golf con tuo padre. Sembra che si trovino benissimo l'uno con l'altro. È fantastico. Ok, devo andare. Non volevo chiamarti, volevo vederti. Questo fine settimana andiamo in campagna. Dobbiamo aiutare mia nonna. Quindi ci vedremo solo lunedì. Per favore, non sentirti sola senza di me. Se la tua amica vuole vederti, falle venire a casa tua. Va bene. Starò a casa. E ti chiamerò in videochiamata per assicurarmi che tu segua le mie richieste. Dopo il matrimonio, Tatiana e Timur andarono in viaggio di nozze. Fu una settimana meravigliosa. Tatiana vedeva che suo marito stava molto bene con lei. Ma lei era soprattutto felice. Era un po' triste che avessero solo una settimana. Ma avevano già i loro impegni. E lunedì Tatiana doveva iniziare il suo nuovo lavoro. Due anni passarono in un lampo. Tatiana aveva un lavoro meraviglioso. Un marito amorevole che cercava sempre di farle piacere quando era libero dal lavoro. I genitori iniziavano a far capire che avrebbero molto voluto diventare nonni e che erano pronti a farlo. Anche Tatiana avrebbe voluto avere un bambino. E Timur non era contrario. Ma ogni volta che faceva un test, il risultato era negativo. Quando il loro terzo anno stava per finire, lei ancora non riusciva a rimanere incinta. Tatiana decise di andare in ospedale per un controllo. Fece tutti gli esami necessari e il medico le disse che appena i risultati fossero stati pronti, l'avrebbe informata. Il quarto giorno, finalmente, la chiamarono dall'ospedale, chiedendole di venire a un appuntamento con il medico. Questo la mise in allarme e capì che qualcosa non andava. Tesoro, non preoccuparti, forse c'è solo qualcosa che non va e il medico vuole prescriverti una cura. Quindi non agitarti, tutto andrà bene. Il medico, con tono prolisso, usava termini medici che per Tatiana erano come un linguaggio oscuro. Non resistette e chiese. Dottore, può dirmi chiaramente cosa ho? Bene, cara, ti dirò direttamente, sei sterile, non potrai mai avere figli. Per Tatiana fu come un fulmine a ciel sereno. Era pronta a tutto, tranne che a questo. Camminava verso casa pensando a come avrebbe dato la notizia a suo marito. Capiva che la sua vita felice, dopo una tale notizia, sarebbe finita all'improvviso. Bene, cara, cosa ha detto il medico? Tutto a posto? Mi ha detto che non avrò mai figli. Sono sterile e nessun trattamento potrà aiutarmi. Tatiana decise di raccontare subito tutto a suo marito. Sapeva che lui non sopportava le bugie e avrebbe percepito qualsiasi falsità. Timur la guardò a lungo. Ma non disse nulla. Quella notte non dormì a casa. Lei non lo incolpò né si offese. Sapeva che Timur desiderava molto dei figli e che il suo posto ora non era più al suo fianco, ma con un'altra donna che potesse darglieli. La mattina andò al lavoro e aspettava con terrore che suo suocero la chiamasse nel suo ufficio e le dicesse di andarsene dalla sua azienda e dalla vita di suo figlio. Ma il tempo passava e nessuno la chiamava e si calmò un po'. La sera arrivò Timur e cominciò a fare le valigie. «Perdonami, Tatiana, ho bisogno di stare solo e riflettere bene. So che ti lascio in un momento difficile, ma non posso fare altrimenti. È meglio che me ne vada. Non ho ancora detto nulla ai nostri genitori e ti prego di non dire ancora nulla». Il giorno seguente Tatiana prese un congedo per malattia, capendo che in quello stato non sarebbe stata di alcuna utilità al lavoro. Sparì per tre giorni. Il quarto giorno capì che doveva convivere con la situazione e che nulla poteva cambiare. Si era mentalmente preparata al divorzio e, calmata, decise di fare le pulizie in appartamento. Quando i locali furono in perfetto ordine, si sentì più tranquilla. Impacchettò i rifiuti in sacchetti e decise di buttarli. Mentre si avvicinava ai cassonetti, stava già gettando i sacchi quando improvvisamente sentì un pianto sommesso. Tatiana guardò nel cassonetto e vide un piccolo fagotto che si muoveva e emetteva suoni indistinti. Quando lo prese e lo scartò, rimase senza parole. In una coperta era avvolto un bambino, che doveva avere appena due giorni di vita. Lasciò cadere gli altri sacchi e, tenendo il bambino in braccio, tornò a casa. A casa lo scartò e vide che era un maschietto molto carino e chiaramente molto affamato. Prima di tutto, scaldò del latte e decise di nutrirlo piano piano con una pipetta. Si saziò e si addormentò, e Tatiana compose il numero di suo marito, pregando che rispondesse. Sì, Tatiana, ti ascolto. È successo qualcosa? Timur, puoi venire a casa? Ho bisogno di parlare seriamente con te. Timur capì che era successo qualcosa e, senza esitare, disse che sarebbe arrivato in quindici minuti. Quando arrivò, Tatiana gli raccontò tutto. Tatiana, non ho capito. Cosa vuoi da me? Timur, ti chiedo di non chiedere il divorzio per ora. Voglio adottare questo bambino, ma non me lo permetteranno se sono divorziata. Per favore, aiutami, è la mia unica possibilità. Capisci? Non potrò avere figli miei. Va bene. Tatiana, ho capito. Non chiederò il divorzio. Fai come credi sia giusto. Di tanto in tanto passerò da te. Ti aiuterò economicamente. Per quanto capisco, non potrai lavorare per ora. Grazie, Timur, non immagini quanto ti sia grata. Niente di che, occupati dei documenti mentre sono qui. Chiama la polizia, l'ambulanza. Non sono un avvocato, ma capisco che queste sono le prime cose da fare. Parlerò io stesso con mio padre. Quindi non ti preoccupare. Ci volle mezzo anno a Tatiana per raccogliere i documenti e prendere il bambino. Sembrava che non sarebbe mai finita. Infine, portò a casa Ruslan. Mentre faceva i documenti, il suo bambino era stato in un orfanotrofio e Tatiana lo visitava ogni giorno. Nel frattempo, Timur aveva preparato la stanza dei bambini, portando tutto il necessario per il piccolo. Tatiana capiva che senza l'aiuto di Timur non ce l'avrebbe fatta. Timur, però, non era ancora tornato, ma lei vedeva che lui la amava ancora. Tatiana si sentiva la donna più felice del mondo. Le sembrava che Ruslan fosse suo figlio. Stavano così bene insieme. Il sabato Timur veniva da loro. Andavano al parco. Facevano una passeggiata. Si era affezionato anche al bambino, ma non voleva ancora tornare con Tatiana. Lei sospettava che avesse qualcuno, ma non pensava nemmeno di rimproverarglielo. Aveva fatto tanto per lei che gli aveva perdonato tutto e era persino pronta a accettare che lui potesse divorziare da lei e sposare un'altra. Quando Ruslan compì quattro anni, Tatiana lo mandò all'asilo e lei tornò a lavorare. Suo suocero era in malattia e temporaneamente le sue funzioni erano svolte da Timur. Lui sorrise quando vide Tatiana la mattina e chiese come stava. Ultimamente non vieni più da noi. Mi manchi terribilmente. E anche Ruslan chiede sempre di te. Mio padre è malato. C'è stato molto lavoro. Ma oggi ti porterò a casa e giocherò con Ruslan. Ma prima andiamo a prenderlo dall'asilo. Quella notte Timur rimase a dormire da Tatiana. Si erano molto mancati e non dormirono per tutta la notte. La mattina seguente Tatiana si sentì male e Timur le chiese di rimanere a casa con il figlio, mentre lui andava al lavoro. Dopo quella notte iniziò a fermarsi spesso da Tatiana e lei sperava che tutto si sistemasse. Era domenica e Tatiana sperava di dormire un po' più a lungo. Ma la mattina presto sentì un forte attacco di nausea e corse in bagno. Quando uscì, tremava tutta e sentiva una forte debolezza nel corpo. Mamma, ti senti male? Chiese Ruslan. Ho sentito come correvi in bagno. Non preoccuparti, tesoro. Sto bene. Resta a casa per ora. Io vado velocemente in farmacia. In farmacia, Tatiana prese un medicinale per lo stomaco e stava per andarsene, ma poi tornò indietro e prese un test di gravidanza. Non poteva spiegarsi il perché, ma un'intuizione le suggeriva di farlo. Nel bagno, fissava le due strisce sul test e non poteva credere che ciò stesse accadendo a lei. La gioia l'aveva travolta così tanto che si sentì nuovamente male. Ok. Devo calmarmi, pensava. Stasera parlerò con Timur. Preparò la colazione e fece sedere il figlio a mangiare. Suonò il campanello e pensò che fosse Timur che era tornato a casa prima del previsto. Una donna chiese se viveva lì Tatiana Rossi. Sì, sono io. Come posso aiutarla? Lei mi ha già aiutato. Ha salvato mio figlio. Ora sono venuta a riprenderlo. Tatiana ebbe un blackout. Si sentì così male che non poteva nemmeno immaginare. Guardava silenziosamente la donna e non riusciva a dire una parola. Le si oscurò la vista e capì che stava per svenire. Fu sorretta da braccia forti che la portarono in casa. Cara, tutto a posto? Tatiana a noi e vide che quella donna non se n'era andata, ma stava nella stanza e guardava Ruslan, che si agitava vicino a sua madre perché era molto spaventato. Cercò di spiegare tutto a Timur, ma non riusciva a farlo. La voce tremava, le lacrime le scorrevano dagli occhi. Timur portò Ruslan in un'altra stanza e disse che avrebbero avuto una conversazione da adulti e che sarebbe stato meglio se lui restasse nella sua stanza. Tatiana, ho sentito la vostra conversazione. Ho capito l'essenziale, quindi non c'è bisogno che tu mi spieghi. Ora mi rivolgo a te, signora. Se non vuoi essere accusata di tentato omicidio, faresti meglio a lasciare questa casa e cancellare dalla tua memoria questo indirizzo e il fatto che hai avuto un figlio. Se non lo farai, ti prometto che ti farò arrestare e mi assicurerò che tu resti in prigione per molto tempo. La donna indietreggiò e si diresse verso la porta. Potrei denunciare. È mio figlio. Bene, vai pure a denunciare. Io adesso chiamo la polizia. Ho ottime relazioni lì e farò una denuncia contro di te. Vediamo cosa succederà. Va bene. Non lo voglio. Magari mi dai dei soldi? Vattene. O chiamo davvero la polizia? La donna se ne andò e Timur si girò verso Tatiana. Tatiana, perché ti sei spaventata così tanto? Dopotutto sei un'avvocata. Avresti dovuto dirle tutto subito e non svenire. Hai anche spaventato nostro figlio. Cosa ti succede? Tatiana non sapeva nemmeno come spiegare tutto. In quel momento non capiva nemmeno cosa la turbasse di più. Era chiaro che non avrebbe mai dato Ruslan a nessuno nella sua vita. E nemmeno Timur avrebbe permesso che qualcuno lo facesse. Ma rimaneva comunque una sensazione brutta e spaventata. E poi c'era quel test, quel malessere. Il dottore le aveva detto chiaramente che non poteva essere incinta. Che era escluso? Allora come? E soprattutto? Come dirlo a Timur? Lui penserà che lei lo faccia apposta per farlo tornare. Anche se no, non se lo aspettava da se stessa. Insomma, Tatiana si era completamente confusa e non trovò nulla di meglio che lasciare a Timur la possibilità di arrivare da solo a una conclusione. Timur la guardava con una certa ansia. La donna decise di non tormentarlo ulteriormente. Tatiana sorrise, estrasse silenziosamente il test dalla tasca e lo passò a Timur. Lui lo guardò perplesso, poi alzò gli occhi verso Tatiana. Se ho capito bene, presto avremo due bambini, Tatiana annui. Timur si sedette accanto a Tatiana. Sembrava così confuso che a lei sembrava che non fosse affatto felice. E cosa si aspettava? Era tanto tempo che non vivevano insieme. Certo, ultimamente lui era spesso qui, ma non aveva nemmeno tentato di tornare. Forse aveva un'altra donna e lei non gliel'aveva mai chiesto. Tatiana sentì le lacrime agli occhi, ma Timur all'improvviso si alzò. Non immagini come mi sento ora. È come se stessi iniziando a vivere di nuovo. Oh, quella nostra medicina? Tatiana, stai piangendo? Che idiota sono? Eh, Timur la abbracciò. Allora andrò a prendere le mie cose. Mi accoglierai di nuovo a casa, moglie? O devo riconquistarti tutto da capo? Tatiana sorrise, scosse la testa negativamente e scoppiò nuovamente in lacrime. Ma stavolta erano lacrime di felicità. Quella stessa sera Timur trasferì di nuovo tutte le sue cose. Il giorno dopo andarono insieme dal dottore. Lui continuava a girare i risultati degli esami. Poi esaminava le ecografie, scuoteva la testa e ripeteva. Incredibile. È semplicemente incredibile. Bene, giovani, devo congratularmi con voi. Una cosa del genere non è mai capitata nella mia pratica. Mentre Tatiana era simile a un piccolo pallone, i suoi uomini la coccolavano e la proteggevano come potevano. Non era nemmeno chiaro chi si sforzasse di più, se Ruslan o Timur. Lei era così felice. Lei e Timur spiegarono a Ruslan che presto avrebbe avuto una sorellina. Il ragazzo era così felice. Poi si rattristò. Mamma, papà, mi amerete di meno ora, vero? Tatiana lo abbracciò. Ma no. Certo che no. Ora sei grande e avrai qualcuno di cui prenderti cura, qualcuno da proteggere. Nacque una meravigliosa bambina e quando Ruslan la guardò, emise il suo verdetto. Mamma, assomiglia a una principessa Timur rise. Ruslan, ora noi due dobbiamo impegnarci per fare in modo che alle nostre principesse non manchi nulla. Il ragazzo guardò seriamente il padre adottivo e rispose. Papà, non preoccuparti, ti aiuterò e ce la faremo sicuramente. 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 La faremo sicuramente.